è proprio che io lo avevo buttato user was moved to your channel zyuk vediamo se ci sente adesso forse ci sente eccomi zyuk buonasera allora moro raccontami questa mela cosa ha detto che io non ho ascoltato niente praticamente 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 è meglio per due ah vabbè però costa un sacco di soldi questo qua ma si ora si si guarda è una merda è successa una cosa strana una cosa che non si media fate le scuole mi raccomando che è importante l'istruzione almeno avere la seconda media io non ce l'ho mi dispiace ho fatto la quarta elementare in quinta poi mi hanno denunciato per atti di bollismo e mi hanno lo sapevo me lo ricordo ci sono ehi belli grazie 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 ma infatti l'hazer è stato bocciato 46 volte ehi grazie sacred e anche thunder thomas grazie 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 luigi mi sono dimmi tu un'idea un'idea in generale non lo so il telefono che lava i denti ma che schifo il telefono che lava i denti con un aspirapolverino che ti succhia tutta la bavetta è già dentro nella squadra ora c'è, non c'era oh random, stasera già stiamo random stiamo random, sempre random ma veramente, stai zitto esprit, capito, è guai a te non ti azzardare non mi ascolta esprit, hai capito? tegolas, cosa vuol dire fate rainbow? stiamo non me sta cagando non sta neanche partendo con la partita cosa vuol dire fate rainbow, tegolas? adesso me lo scrivi adesso mi scrivi cosa vuol dire fate rainbow tegolas, me lo scrivi magari c'era un punto di domanda libero o classificato? ma comunque hai capito come dobbiamo fare esprit? guai a te se sbaglio ti spacco la faccia non ripeteglielo, vediamo è random ma quello è scusa di ripetere ma l'abitudine di esprit gioca i brutti scherzi devo zoomare per i miei punti ho due brutti punti orelli non posso muovermi guai a voi se toccate eh devo Cristina eh li spenderò non so come fare sì ma tegola non me ne frega niente che scrivi non me ne hai detto perché l'hai scritto adesso me lo dici guarda che mi fisso eh se non mi dai una giustiziazione ti chico per 6 cento ma lo fissi perché lo fissi? no lo fisso così per metterlo in imbarazzo ma qui è stato a scegliere che bastardo? marco? marco marco porca fissima marco? marco è l'imbecille è il primo imbecille è benvenuto spontaneo marco è il primo imbecille marco è il primo imbecille quindi se prendo la recluta mi prende la recluta cioè mezz'ora dire me e poi mi diceva marco è il bastardo marco è l'imbecille marco è l'imbecille ma è che è schifo si si ha toccato subito lo scemo mi sta guardando tutt'altro no no tu sei io oggi sei il faccia di merda va bene poi magari dopo quanto è la donazione minima? 1,50 o 100piz? tolkeniano? grazie a tolkeniano 100piz si se li hai più che altro perché se no si mangia tutto paypal non avrebbe senso ma io mi sento tutto sudato ma basta poi caldo ragazzi basta domani stano stanotte si va sto sopra il senso di tolkenico stano tre cosa vuol dire ti piace il caldo? cosa vuol dire ti piace il caldo? oro 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 le botto le sopra ti va? ravanare dell'estate eh io non posso eh ne lì io ne vedo tantissimo qua non posso murare che cacchi ma non si può murare dalle scuola parte dell'estate e vabbè io che cazzo si fa no che rompo il mute che ero che potenti di ritardo risfacco bastardo Moro no 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 no! E mi togli tutte le possibilità di mettere il bandit? Io lo già te l'ho rotto eh! Ma come lo già me l'hai rotto? Non lo fare! Non te lo prende! Ma l'hai rotto tu grepino! Ah! Hai rotto anche la cosa di... Ma no l'hai rotto tu sparando! Io ho rotto il bandit! Qui c'era una cosa come su io! Qui c'era una cosa come su io! E l'ho rotto a Marco col bandit! Stara entrando? L'ho ucciso! E non posso e niente è la fine! Non è morto anche! Posso riprenderti! Sono tutti in fondo! Che sta dicendo questo brogato? Sta parlando completamente a caso! Sono tutti lì fuori comunque! Sì sono tutti lì! Ma scusa! In testa tre volte non ho preso, non ho fatto niente! Capito? Stavi riprendendo quella telecamera eh! Cosa dove fare? L'ho ucciso! Eeeh! E' in fondo qua! Ah no è estragliato a terra! Dove... Nell'ingresso con la scuola! Sono giù ragazzi! Esprit se riesci vieni qua! Hanno fatto cose strane! Che partita di merda! Io non so usarlo! Non ho bruciato! Non ho bruciato! E' il fincetto! Non toccate! Ogni tanto stream ha finci quindi passato da lui! Ma non andate! Ma faceva schifo a giocare! Però ho fatto una kill! Guai a chi tocca! Tocco le balle! Sto cliccando io mentre dicevo guai a chi tocca! Crazy! 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 Allora sarete bravi voi! Io vi amo tutti! Sarete bravi voi a parlare! Amici della chat! Intanto che c'è questa pausa! Vi siete comprati l'iPhone Xmas? Io l'ho comprato! La costa 7 miliardi di euro! Che cazzo c'entra Laser? Cioè la gente si compra le macchine! Non si può comprare l'iPhone Xmas! Io lo lascio dov'è! Personalmente! Io il prossimo telefono che mi prendo è il OnePlus! Non è vero! Io prendo un computer! E' il OnePlus! E lo prendo appena mi donano i soldi! E' il prossimo telefono che si prende è il computer! E' un tablet! Finland! Lo facciamo così! Si chiama... Sono usciti tre iPhone che hanno presentato! L'iPhone XR Che è quello economico! Costa 800 euro! Ok! L'iPhone Aft! Poi... Si è come ai tempi l'iPhone C! L'iPhone Aft! Poi c'è... Di quello principale... Di quello principale c'è l'iPhone X... XS! E l'iPhone Xmas! Che è quello... Quello normale e quello grosso! Perché è Max! Ma Max Pisu? Ma che male che sono l'iPhone XS! Ma sono montagna! Non me ne raccomando! Io non compro più niente di Ciudai! Basta! Mi compro un occhio a 3210! Mi compro un occhio a 3210! Che si chiama Xmas! Beh... C'han visti eh! Tu c'hai visti! Tu c'han visto! Mi hanno ciucciato eh! Il mio fucile come spara? Io la nerf amici! Più d'oro! Più d'oro! Odorami l'alloro! Io sono un fettone! Che d'oro che d'oro! Ragazzo spaziale! Solo tu ci regali! Doraemon spaziale! Marco ma sei pazzo! Sei morto con montagna! No mi ha tirato la C4! Gliel'ho parata e poi mi ha sparato! Ma com'è possibile? La mia vita con la volpe! 100 bit! Grazie mille! Poi fatemi sapere! Una cazzata Luke! Non guardare! Qui e barca abbiamo 10! Io abbiamo 10 light! Esprit 9 light! P9 light! P9! E Moro c'ha una cinesata schifosa! Terribile! Solo OnePlus io! Esatto! E' il migliore del nostro! Concentriamo! Sto veramente giocando di merda! Ma non è che giochiamo di merda! E' che questi qui... Guarda! Guarda! Mamma mia che vera! Non c'entra randomico! Sto facendo solo partite randomiche ultimamente e faccio i buchi! Oddio Vector come avete giocato oggi! Sì! Mamma mia! Chi è? Com'è? Scusate! Scusate! Lunghi come un dito! E' il Luke che è spretto a destra eh! E' questa qua! E' lì dietro a quel tavolino! Dietro a quel tavolino! E' la estri! C'è neanche uno lì! E' la sopra! Lo sapevo! Lo sapevo! Lo sentivano! Lo sentivo dove si muoveva! Non sapeva dove era, porca puttana! E' che stronzo che sei guarda! Lo sapeva e non li ha sparato! Lo sento te! E' il tavolino? Mi hai detto! Ah, ho capito! E' vero che ce n'era uno al tavolino! Cosa vuoi? Cazzo disarva! E' il monki! Quello che ho cambiato dove era, scusami A te Che cazzo Lo sentivo che scuola, che cazzo era il bastardo Guardate non correre in faccia a Ecio Ma io sono bravissimo Adesso non c'ho voglia Non c'ho voglia perchè voglio far vedere ai spirit Che bisogna avere umiltà E soprattutto credere Nei propri sogni senza mai E dico mai Piegarsi alla società Odierna Ed è il motivo per cui Noi non compreremo l'iphone wise Perchè noi non ci piegheremo A questi sistemi Marco scegli veloce Io non supporto le società Ah sono alb418 Marco io non supporto Le società che vendono le cose A più di 200 euro In generale anche una casa Non si vende a più di 200 euro Chi prima arriva C'è la vendita la persona va bene C'è la vendita la città no C'è la differenza Ho capito? Yes Che cazzo sono? Guarda come lo attacco sulla tenda qui Guarda come sta sempre Le ventose sulla tenda Sulla tenda Che cazzo Sto coprendo la coperta Copretti i computer Che sono in mano alla società odierna Maledetta la società Dai è al passato 1 Maledetta la società proprio Odierna odierna Abbaezione Non è partita la base Mi dite cos'è questo Jäger qua per terra? Eh cosa vuoi? Per la finestra Mettilo sulle pareti Mettici tu sulle pareti Dai che devo mettere in rive la torre di trasfondi solare Non riesco a ravanare Mettilo rompi la maschera Prendetevi che devo usare le torriete Ma io non so usarlo questo Eh... Call of the bandit Mettilo qua E mettere l'altro qua Eh... Questi blocchi moderni che incitano alla violenza Non è che usano le armi Ma qui non ha rinforzato nessuno Ma noi siete bui stronti voi Io rinforzo qua Ma le gritte mi f***a rinforzare qua Grazie Penso scomodo questa sera a star seduto Mamma mia Che paura Morelli? Porca miseria è lì fuori eh Vai qua stanno rotto le... Sparando cari È morto Bravo Espiri Andare Morelli Ma perchè li vengono per questi tempi passami davanti Le ho rotte tutte le ho rotte Bravo Morelli L'ho preso Allora sono andato dove una porta Ho visto un boom Sto colpendo La ha rotto Dov'è? Sotto? No 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 è qui È di là Allora è di là Vai ma dove hai tucci di merda? Ah Luke è morto Ma Morelli Che paura Marco Un cazzo Ma... E' che sta facendo... Oh Io ho 21 di vita Ma l'ho scusato Ha bucato il muro rinforzato di campo a te Non ha spade Non ha sparato L'ho ucciso E' un ucciso quello che hai finito Ma la notizia del giorno sono gli articolo 31 di nuovo anziane e la legge sul sul copyright E' vero hanno fatto la legge sul copyright e non era vero niente, era uno scherzo del governo Non si sa ancora niente Infatti hanno deciso tutto poi hanno fatto partire le scoregge finte quelle con le palline Niente non era Is, era Is, mi sa no? Ma l'ho ucciso io Però invece c'è una cosa importante Mark E' vero abbiamo detto anche stamattina Evento a Bergamo venerdì prossimo Il 21 settembre a Bergamo Grazie Debs 400 dollari Comunque il 21 settembre dalle 17 alle 21 Saremo a Bergamo Ma che schifo E sarà per trovare un gioco Aspetta aspetta Saremo lì per trovare un nuovo gioco interattivo Uno storialibro Un videogame Un libro fatto per i bambini Potete venire lì? A Monopoli E' la presentazione di questo nuovo gioco Fatto da italiani 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 E' un gioco Un libro game Per chi non sa cosa sono E batterò a cercare Io non ho tempo qui da perdere Allora potete o venire lì Direttamente a Bergamo per chi volesse Dove abbiamo detto Oppure dalle 19 alle 21 Lo streameremo su Twitch Sul nostro canale E potete interagire tramite la chat Anna mia Anna mia Dove abbiamo detto Saremo io e Marco E lo saremo all'evento Si è regalata da sub E Marco E' la sub è regalata Quante che era? Sì Da adesso fino a fine mese Si Si Se avete la sub è regalata Dicevete un regalo di sub In questo mese Potete rinnovare Quindi, legate le sub, dai! Per favore E' vero Abbiamo da pagare l'affitto Abbiamo da pagare le bollette Abbiamo da pagare le bollette Io che cacchio sono? Che paura Orelli Sei IQ sei? Non l'ho mai usato il mito Ah l'ho visto! Era sulle scale Qua era sulle scale Astag, dove vado io? Fatti un giro, Esprit Va bene, vado eh Vai Corri proprio, mi raccomando Quanto casino sarebbe Non l'ho colpito bene Correre, aspetta, aspetta Com'era lì? Esprit, non ha funzionato Che cacchio hai fatto? Ma io che ne so Non lo so Non lo so come l'ho ucciso L'hai ucciso ed era quello lì Apro le pareti per far andare Vado sopra Eh no, c'è uno sulle scale Eh, Valkyria sulle scale Ho sbagliato È lì lo vedo Vittorio Vittorio a Schivania c'è uno E lo so, eccolo, è morto, è morto Lo spato al pene, più o meno C'è nessuno qui, eccolo È sotto la Schivania Non c'è tre paura No, sotto la Schivania è morto, scusa No, no C'è un altro? Ah, una taschivania È morto L'ho ucciso, Valkyria È rimasto a volone, è rimasto È qua, è qua Vado dentro È rimbalzo Morelli, non si fa mai così Era lì un che era È andato... No, è il prossimo obiettivo Ok È morto Ho fatto due assi Bravissimi Aia, che esplosione Eh, ti basta, stasera sono... Ho un fire Stasera sei? Ho un fire Sei? E chi è? Ho lanciato la granata Chi è? Chi è un fire? È uno che è... Ma di nome come fa? È una favazza È favazza un fire? Sì Ma da dove viene? Ma è italiano? O è italiana? Non lo so a questo punto Viene dalla Grecia È una donna Perché è una donna per forza? No, è una domandica È una donna? Eh no È... Non so, è biondo? È... No È pelato Con gli occhi color carne È un glitch quindi Perché è un glitch? Scusa È un glitch Ma sono blitz Io sono quella di prima Io sono capi Io sono blitz Non capito o mi ricordo Ah Ah, se vuoi che c'è il canale che ci arrivano a fare? Sì, infatti La signorina on fire Sì, lei È il famosissimo signorina on fire Campionista di... Eh... Elasticamento L'ho visto L'ho visto L'ho visto Come vedo io Non vedo sotto Un bel culo Cosa? Scusa Eh no Come l'ha detto Atashank No, ero... E la? Mi pare Vabbè, la Sellerona è una bella guaglione eh Ha Chi era la Sellerona? Ti ricordi? Non lo so ma Non so niente di calcio Dimmi un nome di una showgirl di calcio Dimmi un nome di una showgirl che ti piace molto Eeeh... Ma Emma? Emma Marrone Ma non è una showgirl Emma Marrone Ti piace? Dimmi un po' Un po' tutte Bionde More Rosse Un nome, un nome, fammi un nome Non so Marco Fammi un nome Di una che ti piace in particolar modo Magari E non so Marco Un po' Antonella Elia Manella Clerici Non era... Non era la Sellerona Clerici Scusa Efficiente Eeeh... Mirjana Trevisan ti ricordo io Molto bella era lei Come? Mirjana Trevisan? Ah si? Eh Ma che coincidenza Era bellissima Mirjana Era... Ma è stata facilmente La ultima è una showgirl Ma non è una showgirl Beh si C'è Siver Yook ma ce n'è uno dentro Bisogna da Bebber Ok che ce n'è uno lì eh La Forse era una showgirl Diciamolo Ma perchè è una vecchia Via Moro? No perchè ormai... Fa altro Eh puttana Ma che sfida Lo stai insinuando eh Ma sapevo dov'era Ti si messo davanti Ma certo ma lo scuse Non so se lo passa adesso Non lo ho No gli ho sparato da sopra No Cos'è pure cantato Ma ha attraversato lo scudo il suo sparo Allora Esprit nel bagno Ce ne sono due Ne ho neanche visto Mi hanno visto Porri Esprit Che nel bagno sono in due Dentro la vasca Aiuto mi si è aperta la chat Credo Non ho visto uno in realtà Mi si era aperta la chat ma dai Ma cosa vuol dire? Come vai lì fuori? Lì fuori il yook E' proprio potessi andare effettivamente lì Mi si prende lì alle spalle E' sotto Eheh E' quello nel lì Cacchio cacchio Quanti colpi mi hanno dato a terra però? Ce ne son due? Buono Ok bravissimo L'ho preso No l'ha preciso il yook E l'altro l'ha vinto a terra Ok Yooka Yooka Amici sono lontano? No Marco vai tranquillo Mi senti? Abbiamo vinto? Mi senti Marco? Mi senti Marco? Marco Marco mi senti? Aspetta Moro che ho letto Miriam Leone in chat e mi so spogliato immediatamente Chi è? Cercatela No non voglio dire Cercala su Google Scrivi Miriam Leone Miriam Leone No ma l'hai sicuramente visto Moro E' un capolavoro E' la perfezione E' la perfezione E' la perfezione E' la perfezione raga Qualche foto è terribile Ma non è possibile Morelli Ma non è possibile Morelli In qualche foto l'hanno punturata di droga Ma cosa dici? Ma non è possibile mai nella vita Ma come di Ma l'Incamela non è possibile Non ci credo E' una bella ragazza però appunto Qualche foto gli hanno dato i pugni con la droga nelle mani Io non cercavo la partita Io me la ricordo bellissima Miriam Leone Puoi farlo anche mentre sei nella droga Ah si? Non lo ricordavo Buongiorno I pastigliano più i punteggi Ma me la ricordo veramente bella Miriam Leone E' bella comunque E' brutta E' non lo so adesso non la vedo Non è che seguo la tv Per cui magari è diventata terribile Però 2018 Marco Vediamo un po' E' sempre figa direi Va bene Mi fido di Espe Ma c'erano i tre a caso Ma ci sono i tre a caso Ma li ho visti in chat Ma tutti insieme? E' erano fusi E' erano fusi? E' purtroppo si E vabbè dai Ma come faceva questo essere nuovo? Come si chiamava? Si chiamano tre a caso Marco Ah Ma perchè erano tre giustamente Però non era un a caso Boicottiamoli Non sono a caso Sono i tre membri del canale più famoso D'Italia Ovvero Lo chiamassi così Lo chiamassi così Come si chiama? Così? Fammi vedere come E' così I tre membri del canale più famoso D'Italia All'altra non è vero Non fare gesti Non fare gesti Eh scusa Non c'è saperlo Ho visto Guai a voi eh? Guai a voi Io amo le rosse invece Cioè in realtà Stavo per cliccare Vado a gusti Cioè mi piacciono le robe Mi piacciono le biondi Le grigie Le vecchie Le giovani C'è una bella signora anche Ma basta sempre gli stessi Io sono Ibana Bandit Montagne Io sono Doc Io sono Rook Doc Rook C'erano le donne da Mecciano Non mi ricordo adesso Non è che furia No vabbè erano con le uova No erano con le uova Il fatto è che anche gli uomini Potevano avere dei figli No c'era Non era mica il capo da Mecciano Che li faceva tutti Come i giubbottini No eh Al Satan ha sputato Junior dalla volta Al Satan lo chiami Al Satan perchè dall'anime Vabbè Perché? Come si chiamava scusa? Grande mago piccolo Ma vaffanculo Guardate E' piccolo Che non mi rimane La roba che hanno fatto bene nelle traduzioni E' incredenziale E' insomma Grande mago piccolo O è grande O è piccolo Non può essere grande E' piccolo Scusa è pianoforte Ma vaffanculo Beh però Grande pianoforte Questo vuol dire un giocatore che si chiama Acqua Fresca Perché è liquido Scusa non ho capito io Non c'è 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 Ma c'è un... che è l'alibi? Moro però non posso andare qui davanti Che era l'alibi? Luke hai messo una cosa sbagliata qua No il fatto è che ce n'era già uno lì dentro Sono tanti eh, sono tanti No c'era già uno dentro Ah l'ho preso qua vicino, si Va bene, va di là che qua non c'è niente, ho capito Arriva gentile da qua da me, tutti qua Si sono tutti i limiti Ho avuto un gadget adesso io Occhio Mark Hanno ucciso nessuno No perché sono in fondo Eccolo Ahia Aiutami Esprit Esprit dammi una mano Esprit dagli una mano Esprit Eh aspetta se mi sono individuando Tranquillo tanto non ti vedono Come? Eh nooo Eh non ho fatto niente Un vincitore salta il cavalco Cosa hai detto? Salta il cavalco Salta il cavalco No prima, anche tutta la parte prima Lasciami stare Aris on salta il scavallo Eh si Grazie Schigge Grazie mille Schigge Lasciami stare Salta il cavalco Salta il cavalco Salta il cavalco Che ride che è morto Guarda Quindi odiamo un sacco di gente se solo perché è morto Scusa Cosa? Eh se odiamo tutti quelli morti è un problema amor No Odiamo Hitler perché è morto È un casino se vediamo Lui da morto non mi piace Ma quindi lo preferivi vivo? No Adesso esci fuori da questa situazione Vorelli Ti ci sei messo tu eh Vorelli vai Dicevo magari Fosse vivo Potevo conoscerlo E magari Certo perché potavi avvicinato Ma come? Ma non credo Cioè se un mio amico ha quelle abitudini lì Ma sì ma come persona magari mi stava sentati Allora però Allora se eravamo nella stessa stanza Gli scappava un peto Avrei riso Ma questo non vuol dire che la volesti frequentare Ma perché mi bastava per me odiarmi? Tanto alla fine io mica sono ebreo Ma che discorsi sono? Tu non sei biondo Morelli Che discorsi sono? Morelli Che discorsi sono? Ma vuoi essere di scusate quella chat? Come ho professore di ebrei? Abbiamo visto The Alienist E ve la consiglio a tutti quanti Faccio lo scudo Ma perché è ebreo lui? No E cosa c'entra? E c'erano un paio di ebrei Ah sparsi così Ho visti un paio con il cappellino lì Come si chiama? Qual è? Qual è? La kippa Beh se a qualcuno piace Sherlock Auguri Volevo dire questo Se qualcuno piace Sherlock Beccato Eeeh Va bene Morelli Oggi è meglio che stai zitto Forse sì Forse è meglio che non parli più Le stai muto però gentilmente Vale che c'è l'elettricità sfondoli qua Non sfondare Non mi chiuso a lavorare 3,2,1 Non posso più filzare è vero qua? C'è l'elettricità Ho cambiato Ho rotto il prisma Ah sì Il pezzettino sopra sì E' una volta ci poteva Adesso ci poteva più C'era una botta qua sopra Ma bocca Perché sono clutti nel posto peggiore Che tazza Nessuno giustamente Era random Perché buttare Sono clutti nel posto peggiore E' qua sì È veramente inutile Fizzare dalla bottola Dall'altra parte Però non c'è nessuno Ma non c'è nessuno Ma qua sì C'era qualcuno Io non posso neanche passare Qui di bo Ahia Esprit mi hai sparato tutto Ho visto Mi hanno ucciso Mi hanno ucciso dei piedi Questo è quello che ho visto Ah occhio Mi hanno ucciso quello dietro Infatti Non erano i piedi Occhio che è qua in zona Luke Esprit l'hai ucciso? No Eh ce l'ho scudo Perché è la battarda Ma no Riffiusa lì Esprit Vabbè L'ho uccisa No non fizzare Non fizzare Non fizzare L'ho ucciso L'ho ucciso L'ho ucciso L'ho ucciso Quindi qualcuno è morto L'ho ucciso Io E chi può rompere qua? Ma qui c'è la finestra Non vuoi rompere C'è la finestra Ma non piazza il buco bello Ho capito C'è la finestra Guardate Poi devi farmi usare Esprit Poi devi farmi usare la finestra Che deficiente sei Dov'era la finestra qua? E' quella che viene rotta Non piazziamo usare Ah vabbè L'ho ucciso E' poi sono morto Sì Eh aspetta C'è uno di destra C'è uno qua a destra Un pomoro Sì proprio lì E' sdraiato Ma è sotto E anche lì c'è uno No c'è uno sdraiato di davanti Sdraiato Sopra Sì non so che è lì E l'altro qua da destra Guardate Che situazione Io devo ancora capirci meglio Non c'ho più cosi Non è possibile Sono due solo Non è che sono Ah giusto Mi hai consigliato una serie che non l'hai capito In questo modo Entra qua No è però molto bella Guarda su Se vi piacciono gli investimenti E' giù la Sherlock E' molto bella Arriva Dalle scale arriva Adesso ti arriva uno dalle scale E' uno No c'è uno là Eh merda Eh va bello E' fatto il cu cu Sto riguardando Naruto Mi fa sparare Che manga stai leggendo Eh no Stavo dicendo Sto leggendo Sto leggendo Sto leggendo i numeri soliti Che mi arrivano Basta Naruto Marco basta È morto il me E andava di riguardarlo Col gioco che abbiamo giocato il gatto Mi è tornata a voglia Marco ma basta E' guai a voi Guai a te Morelli Sono più forte Siamo quei randomici Io in quelli veri Guarda Ho fatto due kill Confuse Ebbene Confuse con lo scudo Poi Eh che cazzo Mi fiozzo con lo scudo Scusa Perché sono un coglione Ecco credo di no Però Così A naso Ti 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 Ma taccianca Mi suicido No Mi suicido Scusa Allora Cioè Parlare Di Hitler No Parlare di suicidio Si Marco Eh Esprit parlava di suicidio Non gli diciamo niente a lui Ah io voglio ammazzare Tachanka Va bene Quindi è omicidio No è suicidio Che omicidio No lui ha detto Io voglio ammazzare Tachanka Esprit Ma è lui Tachanka È vero Però non sono un obiettivo di Tachanka Quindi non è C'era un altro di Tachanka Non è un suicidio Non è un pozzetto Io voglio un bici per quello Mi pare No Lai da fare sicuramente No Dobbiamo proteggere il contento Ma che cacchio di arma c'è Ma chi sono? Dove li piazzano? Non lo so Ma vieni Ma sono i Jäger Ma ciò Un pezzo qua Sull'angolino Un pezzo piano Qua l'ho già trovato l'obiettivo Oh è già entrato il ciobbetto Eh Io lo metto poi in mezzo Chiudete in garage Chiudete Qua Che ho fatto Robottino Non lo vedo Dove li metto le scosserie? Lo sento Robottino Lo sento Ma che senti? Era di qua È qua dentro Ora perché metti le cose di Jäger Il cazzè Robottino Non sono io Ma sì che sei tu Non sono io Chiunque lo sentito Dove è sto Robottino Non ha un senso quelle cose Oh Dove è sto voluto in merda Ma Ma sopra non è chiuso niente No vado io adesso Aspetta Sto mettendo le trappole di là Che vai Marco? Ma Ha fatto un buco? Ma che c'è un buco? Così? Come ha fatto? L'hanno rompendo eh Con un po' di sotto Non c'è un buco Ah sopra c'è il buco dietro un pochino Eh ma come hanno fatto scusa? Eh spando a caso Ma scusa Ma è rinforzato No sopra No ma mi hanno sparato da sotto Dal garage Dalla porta del garage Ah c'è un buco Ah c'è il maverick Ma porra Eh maverick Per paura Eh non mi ricordo più Devo fare l'abituato Non ha passato Che paura Marco Ma sei morto Eh sì che sono morto Non sei degno di usare questa scelta E non riesco a mirare È colpito È ancora mia Ma sei ancora lì porca puttana Eh è un po' di schiozza Non vedo Non vedo Non vedo Ah vabbè Ma dove cazzo ha preso Ma come hai fatto a prendermi la scusa Ah ha fatto un bucchetto di rilacco Non lo visto Ah puttana Vabbè Ma fa schifo comunque Troppi troppi Sì Veramente inutile Per fortuna che lo tolgono Tachanka Guarda 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 Sì sarà illegale usarlo Tachanka No Vabbè Corno Arrivederlo Tu sei un bastardo di merda Non ti azzardare Non ti azzardare Non puoi farlo Perché hai rotto qualcosa Scusa Non Scusa Non puoi farlo Ancora Oggi abbiamo registrato un video talmente bello Che abbiamo chiesto subito il rimorso Nel video Del video Ma dissenteria ha avviato Corno Corno ha avviato dissenteria Ecco perché è andato via È andato via C'aveva un impellente bisogno di Quella cosa che si chiama Dizenteria Caltarello Cosa ho preso Come ho visto il capitano Non ero è casuale Grazie Non ero è casuale 21 mesi Ma non sono qua Non sono Quindi sopra Mi ho capito E Pacco Vittorio Blacker Pinklecker Snickerer Capner Sono sotto nel garage Non è vero Ma siete sempre lì Scusate Ma si trova lì Ma appena contato Non c'è nessuno Non dirle cazzate Ho visto uno salire da sotto O magari Sono sotto sotto Allora Sotto nel garage Sotto nel garage Sotto nel garage Che cazzo vorrei però Sotto nel garage Sbagliato Sotto al garage Vabbè sotto il garage E cambia un pochino Efficiente E capisci bene Dai C'hanno Un flash Ma perché c'ho lì No 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 ragazzi C'è qualcosa Io non li prendo più Dalla prossima rando Perché mi capitano sempre I soliti tre No no non lo faccio più Non è rando Sto avendo sempre I soliti tre Sempre quelli Hai le missioni da fare Con quei tre Non credo no Perché avevo Avevo quelli nuovi Marco La mia Aia Che male ragazzi Che male C'è qualcuno dietro Non è possibile Non c'è già più No siamo qua Siamo qua però Eh ho perso i piedi Un attimo Marco stai attento Però con questi piedi Con qualcosa lì Marco Stai attenzionto Aaaaaah Risco Scusami Marco Niente un colpo è arrivato Mi ha fatto in pieno petto Mi ha sparato Anche morelli Ne avevo proprio bisogno Ah va bene Ho sparato sui piedi In realtà Come ho fatto Niente un colpo è arrivato Scusa perché Marco sei crazy Prendi lo scudo Mi hanno ucciso Dove dove arrivarli Eh 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 E' messo Preauto Vale Squi va bene Di questo Tu lo fa Non è docche Non funziona Ahia E' molto male Quattro alleata Marco mi ti andò a coltellare Come hai fatto scusami Eh lo so Il gioco E' ho sbagliato Ma dove mi hai Accoltellato Ma fai caccare con montagna scuse mi hanno coltellato dalla parete con lo scuolzato mi hanno coltellato ma c'era un buco dietro le spalle è possibile e paura di uc non fa anche un po' che dico che hyper scuolma caps comunque boicotto da oggi poi prendo chi vuoi non rovere le palle vado no 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 prendo chi vuoi no no oggi no no oggi scusami tanto mi ridà le stesse cose oggi non puoi oggi oggi non puoi marco ma va bene non puoi oggi riporto se tu ezza vado a dormire che su sonno se tu ezza è possibile si va a riportare dal gian chi lo riporta segnala comportamento no non ce lo fate posso farlo adesso sono velocissimo riportare segnala comportamento scorretto ma chi era i coglioni la tapper continua a giocare come squadra no è giusto no ho trovato la partita sbagliata se una bottina a giocare come squadra la trovo la partita ah beh si prendo quello che voglio prendo quello che mi va quest'estate prendo quello che voglio prendo quello che voglio quest'estate prendo quello che voglio prendo quello che voglio ma dove scappi rosso che voglio sei la mia preferita grazie grazie dotazione metto lo scudo proprio che devo mettere la luggine ombelicale grazie mille grazie la luggine ombelicale che sapore io la mangio sempre non puoi studiare roscia lo studiare dieci di sera guarda devo studiare quel che guai a voi guai a voi guai a voi faccio quello che faccio faccio quello che rifaccio faccio quello che rifaccio la smesti? la smesti? la smesti? vabbè l'utilizzo fu fuori dal tuo canale che bannamento l'utilizzo fu fuori dal tuo canale come ti chiami? io non sono stato bannato ingiustamente ho fatto ricorso ho fatto ricorso io hai fatto ricorso? a chi? a una persona pronto? carabinieri? si mi hanno fatto praticamente stavo giocando mi hanno spostato di un canale a cosa stavi giocando signore? stavo giocando a quel gioco dove si sparano i terroristi ma che dici? ah nel gioco di cosa ho attivato? ho attivato ho attivato ho attivato qualcosa ho detto che si sparano pattuglia pattuglia? la chiami? pattuglia si sparano Emanuele pattuglia Emanuele si sparano comunque pattuglia Emanuele Emanuele non cambia Emanuele passano i robottini Emanuele i robottini pattuglia 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 Emanuele pattuglia Emanuele pattuglia Emanuele pattuglia il robottini grazie a 6 batt 100 bits grazie molto grazie mille ma perché è vero che c'è 100 bits emanuele faccio quello con l'olio faccio quello con l'olio faccio quello con l'olio qui c'è un po' di qua e un po' di la quasi bisogna mamma rogarmine con questo olio qua ah 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 con questo olio night hanno rotto una finestra emanuele guarda lì c'era la trappola cosa vorrebbe non l'ho rotta tanto non si può rompere vabbè ti 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 c'era solo la testa ho preso in testa comunque ho gemmato qualcosa pam 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 a volte ho un panic shot potevo essere morto non farlo marco che spa che scusate che avanza una mucca di lunghezza che va come la panza buonasera a te marco grazie marco grazie vicuzzo marco tanti sono efficiente quindi io sono veramente felice di ricevere i soldi grazie vicuzzo ma le spalle ma scusa c'è uno dentro grazie vicuzzo davvero grazie di qua ero in azione ed ero concentratissimo un amore c'erano io la fidensa c'ero oぉ michelle corri listening ce n'ero i miei dato fastidio ого mi hanno sparato c Также ma dove siamo tu? eh lì eva per lì ora ragazzi sono Grand-Emer cercato grazie 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 ma scusami ma io voglio sapere come cazzo funziona questo gioco E vede spani e muoiono Io gli ho tirato una G4 E non ha funzionato un cazzo Dove sono morelli? Dentro l'obiettivo, Esprit Lo stanno prendendo Ma non ti girare, Gliadar, perché ti sei girato? Entra, Gliadar, tu non ti obiettivo Gliadar, vai dentro Ho stato già catturato Eh, te l'ho detto che era dentro, però E' già fuori, è già fuori Quei cazzo Eh, è sotto, ormai, è troppo tardi Ma non lo capisco, perché quando ho detto che era dentro non è andato nessuno? Eh, ho capito, non tenera solo lui Sì No, mi ha sparato capitato, mi ha puttato la cosa fuori Ero in tre Ma avete aspettato sei mesi dopo Ero in tre Ero in tre FATULIA! E' manue? Vabbè ne prendo uno io adesso Eh, ne loco uno, avanti E' bafanculo, guarda che percita Ero in tre Ero in tre Sì Vai a voi eh Vai a voi Voi bui cinquanta euro? Varebbe veramente la cosa più imbarazzante che potresti chiedere, dotto 50 euro in caso a me però 50 euro in caso è donato i vicuz però a tutti quanti euro per mettere? eh no, cazzo vuoi tu ma scusa tu faccio ricorso, subito 200 euro cosa offrite la sigaretta che sono cose vergognose per la salute? ma a questo momento ti offro un frullato ma è scopo del frullato da offrire, scusami se me lo confezioni in un bricchetto come succo di frutta ottimo allora perfetto, cazzo si a questa game suite amici ci portate dei frullati ben confezionati ben sigillati e non scusi troppo, mi raccomando io ve l'ho già detto cosa mi piacerebbe ricevere da voi io vorrei solo il vostro amore cose fatte da voi tipo dei portachiavi io voglio voi basta, non me ne frega niente le chiavi della vostra macchina che me lo sono fatte dalla loro un po' nuovo magari uno lavora alla fiat non fare pubblicità scusami la pubblicità io vorrei praticamente è un tetra pack esatto o tetra pack o tetra pack o tetra pack ma chi è questa qui? ma chi è questa qui? non portateci i frullati fatti in casa per davvero perchè credo sia anche illegale tra l'altro quei frullati? adesso non so come mai ho capito magari sono avvelenati magari c'è robe che non sappiamo è vero però non l'accetterei che sei maverick ma se ti decassi magari non l'ho riconosce ma non l'ho mai usato aspetta marco eh aspetta marco eh è un po' tardi faccio qualcosa ci sono robe marco di per terra eh magari ci pisciano dentro ci sono allora sono più spalle da qualcuno fare il frullato è illegale è sacra c'era eccio si e qua con te no il drone l'ho visto che non riesco a gli azzar si riesce a beccare il drone di eccio eh e non l'ha ma quello si è da dietro eh vabbè ma muoio sempre sta mappa mi fa parte che mi fa schifo sta mappa com'è adesso nuovo caricatore ma che cazzo dia ho preso l'ho preso ho distrutto il drone eh si però e piero io non lo bevo non lo bevo non ne ho più perché c'è sta fucile comunque eh può essere d'alcol però lo sai è un po' ma l'alcol ve lo può uccisare eh l'altro volta sono riusciti a portarci le birre vabbè ma allora hanno fatto dei magheggi però riuscite eh perché tecnicamente tecnicamente lo puoi anche portare eh ma se non si può fare evitate non le bottiglie di birre e paura con le bottiglie di birre credo che dovresti evitare ma divento grasso Elisa divento grasso ah cazzo altro drone 10 però sono giochi preziosi ma non lo vedo l'altro comunque io voglio solo il vostro amore non mi interessa dei regali con le cose le cosine fatte a mano i ricordini fatte a mano così mi piacciono ma tipo i cazzottini no 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 le cose non da mangiare tipo i protachiavi dei piccoli ciondolini non lo so anche a me piacciono le cose da morire dai 5 no te guarda Espre tu sei in cima eh tu sei in cina eh oggi sei in cina ho visto eh l'ho visto come me l'ha colpito? ah ma ha sciottato ma scusa la prima fatta in casa mi piacerebbe tanto ma come ha fatto la ciappola cosa si faceva con la ciappola? svegli azze non potete portare le cose di netta io sono morto, che vuoi? non avuto tutto questo tempo da me, da me è uscito Veloce 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 Eh si davvero sono dentro eh sono dentro lì Due nel punto sono Quanto vicino morelli? Sono nel punto entrambi Si occorre distraggio E passedo E basta è questo drone è diecio però Ehi lo scudo lì? Ti ho ditterlo scudo tutto Eh non vedevo Esprit E non dove andai infatti E non vedevo dov'era Io do'vi stare fermo infatti Vai, agisci Luke Eh, non mi aspettavo riuscire così in fretta e mi sparsi e mi shuttasse Spero di shuttarlo io E' qui, perdite Come l'hai detto come la Carrà, che ramba, che sorpresa Ed è qui Quindi niente cioccolato quest'anno Mark Eh, Lisa no, se mi volete bene, no Andatemi, tanti abbracci Tanto amore Non portate le ciccionate, allora magari qualcosina Però non portate i vassoi Non portate i vassoi da dar da mangiare a tutti Perché non li prendiamo, non li prendiamo Cioè poi se li volete da dar da mangiare anche agli altri fan che sono lì Fate voi, se li accettano Un'altra volta portavano le spose piene di focaccia Venivano distribuite un po' a tutti Eh sì Ma a me piace Finch, io sono contento Dunque grazie a Poteto su 21 mesi Grazie a Poteto, beh piace anche Finch Ma non è dieta per dimagrire, giochi E allora mangia Ma si Hurry up Ma vi appoggioai ai giubbuttini E a mia domanda E fa freddo Ma Mark lo diceva Tra me, tra me niente cioccolato Eh mica Per me si La dieta, qualsiasi... eh, a parte che il cioccolato nelle diete c'è, comunque. Eh, fa bene il cioccolato, se non ti metti le cucchiaiate di Nutella in sacca, fa bene. Se non fai dicione di merda, fa bene, insomma. Che occhi ho che non me l'hanno visto? Ah, sono... giro in filo. Ma tutto va bene, tranne la droga. Ma hai l'idea? Guarda che la droga, nelle giusti donne... no, non è vero. Un trucco tipo di... un granello di cocaina, tipo... Chi è che ha rotto un drone qua? Non me lo fa, vabbè. Marco io non so dove ne ho questa mappa. Salame al cioccolato lo accetterai io, grazie. Salame al cioccolato. Ma davvero, adesso devi tenere premuta la rotella per diventare invisibile, con... Non è vero. Sì. Io mi nascondo qua, va bene, morendi. Con Vigil. Ma che schifo, non lo userò mai. Questi dove sono? Ah no, non è vero, basta premerla una volta. Che è proprio bravo, guarda, non ti si vede proprio, eh. Ecco. Come stai? Bene, grazie. Allora, è nostalgia, ho chiesto. Bene, bene. Eh dai, non spaventarti, è così che va la vita. Al primo è un nostalgia e poi... Bestia vacca! Sono là, eh? Bah. Ti capiii? Ti ti. Ti ti. Ti ti. Ti ti. Ti ti. Ti ti. Ti mi hanno fatto una vaccazza, è più. Ti ti? Ah! Ti ti. Ti ti ti. Ti ti nasco. Ti invece! Padilla! Ti ti... sono quasi decaduto allora c'è un buco nella parete qui non vedi più niente eh sì c'è uno lì Marco Marco dietro di te credo sono stato individuato abbiamo invertito con il gatto qua? eh c'è lì fuori nel buco è lì Marco è lì uno è lì e l'altro fuori nel buco ti hai visto ma io niente è qui spara dove ho è vero nella parelli ma che cazzo ho preso a caso adesso l'altro è qui c'è un robottino lui è qui dentro vabbè certo Dark guarda che si vede sempre la dose ecco lì Marco scusami lì non mi ha sparato lì non stava spando niente stava spando dalla punta del cappello stava sparando da lì quello non era vero porto gli addosso che fai casinio ah nooo lì non scarto i primi colti live non era vero si annaggia i pescetti guarda capitau mi ha sparato dei capelli mi ha sparato capitau è così incredibile ma io l'ho pelato ecco l'ho pelato coi botti facciamone una coi drop facciamone una coi dropkick dai più quelle temporanee solo oggi sono contento giallo che tu sei contento domani ritorniamo agli orari noi sono alle 20 alle 20 ah è perché se non stai tranquillo ti becchi una cinquina eh di cosa? eeeh di cereali i 5 cereali portare fuori te di cosa? di portare fuori te giusto porta con me la squadra dai ma se vincevo un pacchettino ah no abbiamo perso avrei visto comunque il punto che potrei che abbiamo perso comunque anche ora gioca eeeh cazzi terroristi eeeh e normale cazzi hai terroristi? solo squadra posso prendere il pocio l'avezzi io? no devi fare il nomico ah volevo il proprio l'avezzi io peccato cosa sono le cinguine in fatto di cibo? eeeh i 5 cereali marco ma non è vero ma come non è vero marco ma dai devi mangiare colazione a parte che i cereali possono essere anche 6 eh ma i 5 sono 5 ma no ma 6 sono più bene marco quali sono i 5 cereali? l'orzo bimbo no il caffè amatriciano la pasta chicarrubi e la lasagna al pesto allora marco sono andato alla fiera di san nicola ma guarda ma poi hai detto che non c'era niente lì come non c'era niente? non era la fiera che dicevi che si pagava non c'era più niente ma no quello lì era il biciclo fermiano no la fiera di san nicola è penso immensa ma pensi pensi o è uè è immensa penso volevo dire penso la più grande del mondo e c'erano queste cose ma montagne queste bancarelle che vendevano tipo le olive i pomodori secchi e vendevano anche la carruba solo che io cos'è marco la carruba? tu che sei un terrone di merda ma no è siciliana non è calabrese non mi ricordo cos'era la carruba? non mi ricordo se dico mi fare un piatto tipico è una spezia ma che piatto tipico? no non è una spezia è tipo è una ma non lo so sembra una fava sembrava ma allora allora se non era niente bastava dire non era niente non è che devi dire sembrava una fava ah 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 che spara questo mi sono da parte ricarico cosa? l'ho difeso ma è la rally ma è la rally ma è sempre ah ah fatti i soros guardi cosa hai combinato oh oh sono morto anch'io ma le spalle ma scusa ma da fuori ma di nuovo ma perché li vado a casa da fuori scusa mi hai già chiesto durante trial la carruba è vero però però ieri non mi sa da vivo sono queste fave secche qua 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 dove sono io i carrubi davanti a me nuke qua uno qua c'è uno è un legume eh c'è proprio una strotta comunque sì e c'era anche ferdi che mi hanno avuto il lobo il ticco buona la carruba ma si mangia anche così perché l'archè perché la ci si fa la farina la farina la farina di carrubi è un mangione per cavalli che è tipo un fagiolo nero ho capito ma lo vendeva tra le cose alimentari scusami non hai cercato quello niente non l'hai cercato sicuro beh sono bot sono delle gomme credo sono comunque dietro le botte secondo me si accettano si accettano si accettano i botte sempre fatto comunque moro nei 5 cerali c'è per forza il riso poi vabbè gli altri non è vero sì c'è il riso il mais l'orzo e qua poi non me li ricordo ma il riso c'è per forza perché era la pubblicità delle 5 cereali quindi non è vero era il riso nelle 5 cereali come e sarà l'orzo il faro non è vero cioè il mais il riso l'orzo il mais il riso l'orzo sarà il frumento il frumento non lo so sarà il grano il faro l'avena il riso e l'orzo ma il mais non c'è il mais no vediamo Marco ma il riso era quello sicuro perché era nella pubblicità dei 5 cereali e l'orzo l'orzo ma Espri cosa stiamo aspettando però ho detto voglio fare un altro ma scusa chi ha voto per riprovare qualcuno ha votato Marco sicuramente no no io sono qua qualcuno ha voto per riprovare mi ha cliccato ma gli azzur non c'è ecco chi è no io ne ho uscito prima ma non c'era niente ma io se non ho fatto niente io ne ho uscito prima in 4 ma io non ho stavo leggendo la chat appunto vabbè allora niente guarda basta così Espri no adesso facciamo va bene sei uscito io non c'era niente io non c'era niente io non c'era niente e non c'eri è vero non c'eri ti sei unito adesso ma non ti è ragazzato dai e i Kinder Cereali c'erano ma siamo in difesa ma che cazzo guarda non giudiamo stavolta ma in difesa non ho balle eh non mi ha fatto di prova dovevo fare di prova di Kinder Cereali Ramondo per quale motivo ah per i 5 cereali giustamente sono buoni i Kinder Cereali perché va anche non giù forse sono buoni perché ce li hai? si e io? eeeh no che cazzo serve alibi contro i boss Mute Mute come serve? e Pulse dai potrebbe essere utile Pulse guarda secondo me guarda allora fammi mangiare la terra vabbè prima la rompo poi la chiusa vuoi fare lo zimitaro Espri dai devo fare scusa? lo stronzo ah ti fa sto male eh eh scusami giriamo tutta la novella e mettiamo in alto pallo? no è una parete poi chiudete queste finestre porca troia qui ti ho sentito fa tutto quanto eeeh non stai facendo un cazzo vado qua chiudo e mi parli ogni mattina ogni mattina alle 14 e ogni sera alle 9 di manciotto ho sistemato la porta ti vedo no esprit 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 da oggi ti posso chiamare ziozza che male mi hanno fatto eeeh esprit cosa? ti posso chiamare ziozza da oggi? no perchè? mi fa schifo non è vero è bello perchè sei ziozzanotti ma chi è che ha le sue granate? marco ho sciso uno ho sciso uno sei tu che ha le sue granate? no ho sciso uno sei tu che ha le sue granate? no c'ho un curatoio guarda a te aia guarda te questi imbecilli tutti quanti io stavo scappando io stavo scappando inerme da un povero pazzo c'è neanche uno mi ha lanciato due mi ha lanciato due mi ha lanciato amoro non l'hai preso? ma che figura morelli no l'ho preso luke che appena hanno tirato su ha sparato a lui e all'ostaggio ma dai mi ha vinto quindi ma che hai vinto che hai vinto come avevo vinto? grandissimi 500 cereali ma non è vero non è vero 500 cereali per questa viponia guarda fammi scena sto gioco guarda sti coglioni sti coglioni imbecilli chi raidiamo stasera? nessuna ci sono quei tre bastardi dovrebbe esserci i tre rimbambiti a casa non sono i tre bastardi di coglioni non sono i tre ma fammi scena tre bastardi di novice che sono andati in live tre in Italia si sono in live possiamo raidarli? ok raidiamo i tre rimbambiti a casa scrivetegli gli scrivete tre tre staccato in Italia punto di domanda quindi così tre in Italia no tre in Italia così bravo ci vediamo domani mattina con San Giovanni mi raccomando non mancate e portate le uova esatto mi raccomando le uova mi raccomando che scorpacciata ciao 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 ciao